Tremenda siccità, caldo, caldo soffocante, una calura opprimente avvolgeva la Puglia intera. Quattro giorni prima si era formata una massa di aria rovente e secca, lunga 50 km e larga altrettanto, e quel giorno di luglio a luna del pomeriggio i pugliesi sudavano copiosamente. La temperatura oscillava dai 40 ai 45 gradi e oltre, e non si prevedeva che potesse diminuire. Negli uffici, nei negozi e in molte abitazioni erano accesi migliaia di condizionatori. In decine di fattorie della fertile terra pugliese eserciti di pompe elettriche succhiavano acqua dai pozzi profondi, convogliandola al bestiama assetato e raccolti in ariditi. A Francavilla Fontana e Oria il caldo si era imbessialito e le celle frigorifere e i frigoriferi domestici funzionavano senza un attimo di sosta. «Ci siamo», disse l'agronomo che curava l'uiazzu, come si chiamava in dialetto la tenuta. «Questa è l'ultima pompata. Sta venendo su il fango». I dipendenti che erano presenti lo sapevano già. La tenuta dove lavoravano era una delle più grandi della Puglia. Era ricca, solida e, per definizione di molti, una delle prime della regione. Ma la calura eccezionale essiccava anche le anime dei dipendenti. «Che cos'è per voi l'amore per la vostra terra?» chiese inaspettatamente l'agronomo, vedendo i suoi dipendenti estremati. «L'amore», rispose un dipendente che scriveva poesie e lavorava il meno che poteva. «Io ti amo e tu mi ami?» «Il nostro sì, che amore, durerà in eterno. Io non ti amo. Non mi ami? Se io ti amo, devi amarmi. No, mi spiace, non ti amo. Ah, sì? Allora ti odio». «Ah, questo è l'amore per te», disse l'agronomo, a torso nudo, piuttosto alto e di corporatura sottile ma robusta. I suoi occhi erano schietti e sinceri e in quel momento scintillavano severi. Prossimo alla cinquantina, di solito, l'agronomo appariva più giovane, ma nei giorni della grave siccità, a causa della tensione e della stanchezza, dimostrava più della sua età. Da molti giorni lavorava fino a mezzanotte e si alzava alle quattro nella sua azienda. Rivolto al suo dipendente poeta, aggiunse «Se il tuo amore per la tua terra è tutto qui, allora farai bene ad andare a lavorare all'estero, perché se veramente ami la tua terra, non puoi continuare a lavorarci essendo ironico in un momento come questo. «Perché? Che cosa ho detto di male?» disse il dipendente. «C'è che mi hai risposto con la mente, mentre mi dovevi rispondere con il cuore, ma non ce la fai. Perché non ce la faccio? Non ce la fai ad amare il tuo lavoro come fanno gli altri che lavorano come muli ciechi intorno ad un pozzo. Non ce la fai. E lo sai perché non ce la fai? Perché non conosci ancora la voce intima, l'unica, che può dare un senso a questa tremenda siccità». Poi, rivolto agli altri dipendenti, l'agronomo aggiunse «Vi prego di portare queste mie parole ai parenti e agli amici che sono nelle nostre stesse condizioni». Poi, rivolto agli amici.